vai grandissimo rubagli la palla vai schiacciata e andiamo ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di NBA come vedete lo stadio è gremito di persone e quindi andiamo subito qua in partita vediamo subito chi prende ragazzi la palla e la prende subito Bistar non è vero adesso sono i bianchi cavolo ho fatto la partita di prima che avevo le casacche nere ragazzi vai raddoppia raddoppia vai 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 stoppala niente da fare due punti subito dentro così è un casino ragazzi giocare perché ho appena finito anche di giocare ad altri giochi di sport e ogni gioco di sport richiede veramente tantissimi tasti schiacciata niente da fare però due punti subito pareggio sì ogni gioco ragazzi di sport ha tantissimi tasti da comandare ogni giocatore cioè veramente un casino e ogni volta mi dimentico qualcosa spero ragazzi di riuscire a giocare vai 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 corri corri come cavolo si fa a correre non mi ricordo più dentro altri quattro punti là però ci stava una schiacciata in verosimile però ragazzi le schiacciate in partita non riesco a farle è più forte di me ci riesco tranquillamente negli allenamenti però porca vacca uh grande corrimbalzo sì nelle partite non riesco a fare assolutamente no no mi hanno ristoppato attenzione 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 il gigante non entra non entra non è possibile che entri nell'altro video mi avete chiesto anche di fare molti più passaggi nooo ma passaggi corretti non sbagliati nooo e quello me l'ha buttata dentro ci sono altri due minuti e quaranta per il primo tempo tre punti due punti invece niente da fare ma perché oh ragazzi veramente non so se capita anche a voi cavolo quella era da recuperare uh rubata la palla attenzione vai 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 ciccio corri ciccio e dentro attenzione se capita anche a voi magari che in partita non riuscite a fare eh dei movimenti che invece in allenamento li riuscite a fare tranquillamente attenzione attenzione eh quello era da solo rubato il palleggio nooo cavolo eccolo qui andiamo finalmente night grandissimo questo giocatore che ho trovato nel pacchetto premium gold iper potente che alcuni di voi mi hanno detto ma non è uno dei giocatori forti a me ragazzi sembra forte uh uh come gli stop alla palla attenzione vai andiamo 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 e andiamo così si fa cavolo dai che mi sto scaldando ragazzi nel secondo tempo faremo faville cosa fai con quella mano vuoi battermi il 5 vai proviamo a fare una bella schiacciata ragazzi guarda come se li mangia tutti a colazione nooo cioè ha fatto un numero quello lì spettacolare vai avanti op op nooo cavolo corta come fai a tirare corto nooo mi hanno parato ma ancora quanti stop hanno fatto no 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 stoppalo c'è quello in difesa che non serve a nulla 21 a 16 time out uh uh come gli ruba palla attenzione uh no non ho segnato lì cavolo dai quello lì era spettacolare cavolo due punti più i tiri liberi quello lì erano veramente punti regalati cavolo potevano essere 4 punti vai andiamo secondo tiro libero perfetto anche l'altro ha segnato 2 su 2 vai grandissimo rubagli la palla vai schiacciata e andiamo uh altra schiacciata attenzione ragazzi le magie 30 a 31 ci rifacciamo sotto più agguerriti che mai rubata di nuovo palla ragazzi quelli non ce la fanno più schiacciata ancora tre schiacciate una dietro l'altra grandissimo knight vai vai dentro uh la magia fa scomparire la palla sempre knight attenzione mi servono più giocatori d'oro qua vai col rimbalzo avanti su avanti su girati schiacciata niente anche lui fa scomparire la palla le magie rubata la palla vai su avanti schiacciata grande così si fa si puniscono si puniscono i miami hit qua alle hop alle hop ragazzi via no c'era quell'altro per uno schema spettacolare no 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 stoppalo eh niente da fare 41 a 42 guarda come gli ruba la palla vai avanti avanti schiacciata e andiamo puniti selvaggiamente ma è schiacciata e andiamo 53 a 48 un minuto e 20 alla fine guardate che pressing alto che fanno ma io adesso li frego tutti no stoppata dentro altri due punti e chiamano il time out a 53 secondi cosa è successo fallo il fallo di chi ah dei loro eh contro di me quanto mi ha spinto quello ma siamo matti mi ha lanciato nelle tribune oh la due punti oh la e il primo è andato uh anche il secondo questa partita ce la portiamo a casa guardate come li stoppo rimbalzo non passa più nessuno guarda che fallosi che sono stanno solamente facendo falli vabbè io va bene perché faccio solamente punti no cavolo appena detto ragazzi porto una sfiga vara no appena detto ho sempre segnato i tiri liberi adesso cavolo due su due sbagliati grande prova che falloso grande night brandon altri due tiri liberi ora adesso entrano perfettamente 26 secondi dai voglio arrivare a 60 almeno questo è andato anche quello basta è impossibile vinta no se li rubavo palla da 3 stiamo scherzando ma guarda che falli mi buttano ogni volta sugli spalti questi vai 60 e adesso sfondiamo il muro buono buono ragazzi 61 53 con 15 secondi alla fine tutti da 3 punti 3 punti ancora stiamo scherzando ogni volta che passo mi fanno fallo cavolo nell'ultimo minuto è sempre stato così tutti da 3 punti adesso li stanno facendo per fortuna che avevo un po' di vantaggio se no qua vai grandissimo e l'ultimo perfetto 63 a 56 perché adesso non li faccio più segnare attenzione doppio si un altro da 3 punti e poi dai per favore ma per favore guarda che falloso chi è dai 3 secondi e 8 vai aumentiamo la distanza un altro bello 64 ottimo così se dovessero fare anche il tiro della disperazione da 3 punti non mi prendono più no questo è malissimo è andato e quello va no se andava quello veramente scoppiava lo stadio ragazzi comunque partita vinta ragazzi ho fatto delle schiacciate degli slam dunk da panico veramente 64 a 59 io vi invito a lasciare tantissimi like se volete altri video di NBA a me piace veramente tantissimo questo gioco lasciate like commentate iscrivetevi alla pagina facebook che trovate in descrizione al mio canale ragazzi quindi qua da Bistard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video a